Invece parliamo di giovani e sono giovani davvero speciali come tanti, come tanti appunto che sono in giro, sono in attività e sono i giovani che dedicano il proprio impegno, la propria passione all'arte. Allora do il benvenuto ai miei prossimi ospiti che sono Matteo Parmegiani, buongiorno, buongiorno, benvenuto e Tommaso Ussardi, buongiorno, buongiorno, benvenuto e rispettivamente vicepresidente e presidente di un'associazione che in realtà è anche un'orchestra dal titolo assolutamente affascinante che è appunto Senza Spine, un'associazione che è un bellissimo esempio di integrazione innanzitutto perché è composta da giovanissimi rigorosamente al di sotto dei 30 anni provenienti davvero da ogni parte del mondo, questo perché questi ragazzi sono legati dalla passione per l'arte e per la musica in modo particolare ma in realtà rispondono anche a una volontà insomma di condivisione, di partecipazione, di attività nel campo della cultura che insomma sicuramente rappresenta una delle ragioni proprio basilari dell'attività di questa associazione che è innanzitutto come si presenta, come nasce? Allora è un gruppo di amici, quindi innanzitutto è questo, infatti rigorosamente sotto i 30 anni non tanto per un limite imposto semplicemente perché sono la comunità nel quale viviamo quotidianamente, quindi io ad esempio ne ho 29, lui ne ha 25 ecco quindi meno male la fascia di età è dettata dalle amicizie che ci sono attorno e anche il modo in cui è nata questa associazione è stato del tutto spontaneo quindi un gruppo di amici che per la voglia di suonare insieme e anche la voglia di iniziare in qualche modo a portare nella città un'utilità degli studi svolti e quindi anche creare un interesse nuovo che purtroppo ci siamo resi conto sulla nostra pelle da essere completamente assente, quindi da iniziare ad essere 3-4 persone con la volontà di unirsi piano piano abbiamo sentito che in realtà erano numerosissime le persone, i ragazzi con questa volontà e grazie alla rete, a Facebook, alle amicizie inoltrate anche da tutte le esperienze che i musicisti oggi fanno in Italia perché dobbiamo dire anche che io e Matteo ci siamo conosciuti al Conservatorio di Bologna però nella nostra orchestra sono riunite figure che vengono da ogni parte del mondo che si sono ritrovate a Bologna per diversi motivi, chi per Erasmus e chi per motivi di studio legati a un maestro particolare che hanno seguito, chi altri invece per esempio per esperienze fatte in orchestre nazionali perché dobbiamo dire che in Italia comunque ci sono delle realtà nazionali importanti come la Cherubini o l'orchestra dei Conservatori, la Giovanina Italiana, sono orchestre che raccolgono i migliori musicisti d'Italia sotto i 26 anni, sotto i 28 anni e qui nascono delle amicizie ovviamente che una volta terminata questa esperienza rimangono e quindi nella nostra orchestra è anche molto bello perché la qualità è enormemente alta proprio perché le persone si sono conosciute in realtà molto importante a livello nazionale e adesso proprio per la volontà di continuare a lavorare e a produrre insomma in maniera qualitativamente molto alta si sono ritrovati sotto questo nostro nome che è nato in maniera appunto spontanea Esatto, un nome davvero allusivo, questo senza spine un po' l'invito è quello invece piuttosto di lasciarsi pungere dalla bellezza dell'arte senza però rimanerne feriti, anzi arricchiti, no? Esattamente, il nome appunto è nato da questo pensiero ovvero in realtà lasciarsi pungere no ma appunto come dicevi tu non farsi male perché la cultura non fa male, assolutamente, fa solo del bene poi in Italia, paese di cultura dove si dovrebbe puntare sulla cultura noi ci proviamo insomma, diamo del nostro meglio e quindi questo nome che può essere anche interpretato come un senza spine a livello proprio di energia elettrica perché essendo tutti strumenti acustici non abbiamo bisogno quando siamo in teatro di amplificazione molti anche che non vengono a teatro chiedono ma c'è il microfono, c'è l'amplificazione? no, esatto ma il concetto principale è quello di far venire a teatro ragazzi noi ci rivolgiamo a persone della nostra età non solo la nostra età anagrafica ma proprio giovani, persone che diciamo si sono poco avvicinate a questo mondo che fa paura perché in teatro ci fa solamente gente esperta non è vero, anzi il teatro era vissuto centinaia di anni fa come un luogo di svago, un luogo di dove passare il tempo quando non c'erano altre tipologie di svago appunto e invece adesso la gente ha timore a venire a teatro e se faccio un applauso nel momento sbagliato non ci si sente mai abbastanza preparati esatto, invece non è vero perché soprattutto per quello che riguarda la musica proprio la musica è un qualche cosa di diretto, di istintivo e se uno va a teatro senza preconcetti e assorbe senza troppe costruzioni mentali sopra riesce a compiacersi di quello che ascolta senza dover saper conoscere la musica a tutti i costi è certo, insomma la chiave di questa vostra presenza e di questa vostra attività è quella di proporre l'arte quindi la musica in chiave giovanile questo senza assolutamente sminuirla anzi andando come ci spiegava appunto Matteo Parmegiani andando proprio a riscoprire anche quello che è il suo valore originario quello di essere un collante tra le persone quindi una grande occasione di conoscenza sì ma anche di condivisione insomma questo è un po' il modo in cui i giovani prendono in mano questa grande responsabilità che è quella di fare cultura in questo nostro paese che dovrebbe avere questo come obiettivo principale proponendosi ai giovani ma non solo insomma quindi in una chiave più che altro giovanile questo è il senso della vostra attività esattamente, proprio la chiave giovanile cioè portare questa forte energia di condivisione sia all'interno dell'orchestra perché anche per noi è un motivo assolutamente sensazionale il poter stare in 80-90 persone in uno spazio come può essere un palcoscenico ma anche uno spazio prove dove portare tutto ciò che abbiamo da regalarci a vicenda e condividere un evento come quello di un concerto ma anche semplicemente appunto anche se fosse un minuto è fantastica proprio la possibilità di condividere così tanto un'esperienza artistica e quindi sia dall'interno dell'orchestra è sensazionale proprio questa esperienza devo dirlo e ce ne accorgiamo tutti quotidianamente perché tra l'altro immaginiamo 80-100 persone diverse che prima non si conoscevano così bene invece adesso iniziamo a condividere quotidianamente gli stessi spazi quindi proprio una sorta di comunità che da interpretare completamente anche al di fuori dello spazio della produzione musicale cioè ci vediamo 12-13 ore al giorno quindi sì sì è bellissimo è uno stato di amicizia assolutamente unico e ci sta emozionando moltissimo cosa restituite voi di questo vostro essere così comunità anche che genere di spettacoli proponete che genere di performance? sì allora diciamo che ogni performance che noi creiamo ogni spettacolo lo pensiamo diciamo cerchiamo di dargli un taglio un po' diverso appunto per accattivare per rendere più accattivante quello che noi proponiamo e adesso pensando agli ultimi spettacoli che abbiamo fatto innanzitutto c'è da dire che stiamo collaborando molto bene siamo molto orgogliosi di questo con il Teatro Duse e il Teatro Manzoni di Bologna entrambi ci hanno dato spazi ci hanno dato modo di esibirci e devo dire anche con il nostro grande entusiasmo c'era il teatro sempre pieni e quindi questo è stato molto appagante per noi e abbiamo fatto uno spettacolo a marzo che abbiamo intitolato Abracadabra sì dove suonavamo musiche molte tratte dal film dal cartone animato fantasia della Disney con giochi di luci con la presenza di attori e mimi che recitavano dei testi quindi un connubio tra musica e poesia e recitazione appunto e quello lì è stato uno spettacolo appunto un po' diverso dal normale qui sto vedendo invece le immagini del primo concerto che abbiamo fatto a Duse era una sorta di concerto di Capodanno allora ci eravamo immaginati facevamo dei brani di Tchaikovsky e di Strauss e allora ci eravamo immaginati questi due autori che si incontravano che si incontravano e poi abbiamo fatto Tommaso diretto un concerto al Manzoni a metà aprile si chiamava Promenade facciamo quadri da un'esposizione allora ci di Mussoschi di Mussoschi orchestrato da Ravelle allora ci immaginavamo questa passeggiata tra i due autori e quindi stiamo praticamente cercando di confezionare delle cose un po' particolari e appunto diceva prima Tommaso i giovani e devo dire con grande orgoglio che il primo concerto importante che abbiamo fatto al Teatro Manzoni è stato a settembre e l'abbiamo fatto in occasione dei 90 anni del Liceo Righi di Bologna un liceo storico e quindi è stato quello lì un grandissimo, un meraviglioso inizio perché c'era tutto il teatro pieno di ragazzi del liceo che si sono divertiti erano entusiasti avevamo fatto la suite dal Lago dei Cigni avevamo fatto un concerto per pianoforte e orchestra con un ragazzino di 15 anni Nicolas Giacomelli che suonava e quindi abbiamo cominciato in questa direzione e continuiamo in questa direzione In un futuro che cosa c'è? Vista tanta attività, tanta originalità anche perché il modo, adesso questo breve trailer ci ha mostrato anche una chiave davvero innovativa che avete di proporvi voi come organismo ma anche voi come musica insomma come proposte vere e proprie che cosa c'è nel futuro dell'orchestra senza scrivere? Innanzitutto una volontà di continuare a esibirci portando la nostra musica o meglio più che la nostra la musica di tutti però espressa con una nuova energia che possa veramente diventare palpabile da chiunque anche da chi per paura o per come si diceva prima per una difficoltà anche così culturale un preconcetto anche semplicemente esatto di avvicinarsi e soprattutto di concedersi a un certo tipo di musica che spaventa più che altro per l'attenzione che uno pensa che debba dare invece non è così nel momento in cui attraversa la pelle l'energia è pura e non c'è più bisogno di mediarla in nessun modo quindi portare questo genere di spettacolo dappertutto dai teatri alle piazze o ai centri meno consueti come abbiamo già fatto perché abbiamo ecco ad esempio questo è un flash mob che abbiamo fatto al centro Iperlame della Copp e è un momento molto molto curioso perché facciamo dirigere i passanti quindi lo chiamiamo Conductas anzi questo sì questo è il Bollero abbiamo fatto un'interpretazione del Bollero all'interno del centro comunista e quindi andate tra le corsie esatto tra le corsie a intercettare potenziali direttori d'orchestra oppure sì abbiamo anche nelle piazze facciamo questo genere di spettacoli che funziona moltissimo perché la gente si trova coinvolta in un evento del tutto inaspettato ah certo e pensiamo sia un'esperienza stupenda ad esempio anche per i bambini cioè immaginare bambini di 5-6 anni che si trovano inseriti in un'orchestra di 50-60 elementi ah certo non ho idea come tornino a casa con quale immagine abbiamo già fatto parecchi Conductas tre o quattro almeno e i bambini che vengono con la bacchetta e poi il divertente sta appunto nel fatto che poi noi ci alleniamo per seguire il direttore non è che poi partono e vanno da soli in realtà e quindi succede di tutto è molto spassoso quindi sì continuiamo a proporre questo genere di spettacoli e devo dire che è talmente carico il momento di aspettative sia da parte nostra ma anche dalla comunità verso la quale ci rivolgiamo che è assolutamente imprevedibile cioè stiamo cercando di organizzarci il più possibile perché siamo nati meno di un anno fa giovanissimi quindi in tutti i sensi il primo concerto l'abbiamo fatto a fine maggio dell'anno scorso e in un anno abbiamo già fatto 12 concerti neanche in meno di un anno in meno di un anno una produzione notevole assolutamente anche come dire esagerata ma proprio perché abbiamo un tale entusiasmo e sentiamo che sta funzionando questa nostra proposta evidentemente anche anche la risposta che vi giunge e vi conferma quando vediamo la schermata di un teatro vuota come al Duse o al Manzoni che sono 1000 1200 posti e abbiamo quest'ansia di doverlo riempire è sempre una gran paura ma poi quando ci troviamo lì con la platea piena e tutto il teatro pieno è una sensazione bellissima e ci dà appunto l'energia per continuare e per andare avanti ci aspettiamo di portare appunto numerosi concerti al Duse al Manzoni la nostra speranza è quella di iniziare a farci conoscere nella regione e portare concerti appunto nella regione e poi a livello nazionale quindi appunto stiamo stiamo cercando di capire fino a che punto ecco l'interesse possa possa farsi come dire accendere e iniziare a portare il nostro messaggio dappertutto perché siamo veramente volonterosi ecco è certo ed entusiasti mi viene anche da sottolineare quindi è particolarmente importante anche questa vostra capacità di uscire dai luoghi deputati alla musica nel senso più tradizionale nonostante appunto nella vostra esperienza ci siano anche anche questi ma insomma il fatto di raggiungere la gente di avvicinarsi alla gente attraverso la musica è sicuramente un bellissimo messaggio che noi insomma raccogliamo e che divulghiamo quindi per chi volesse seguire anche autonomamente l'orchestra senza spine naturalmente c'è un profilo facebook attorno al quale insomma si concentra gran parte dell'attività promozionale di questo di questo gruppo che è proprio nato a partire da questo da questo strumento non musicale in questo caso io ringrazio tantissimo i miei ospiti e naturalmente non posso che augurarvi insomma bocca al lupo per tutta la vostra attività grazie grazie davvero adesso ci fermiamo per una brevissima pausa poi ci ritrovate qua grazie a tutti